ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere la lavorazione di questo motivo con i feri circolari perché prima di far uscire appunto il tutorial del video in cui abbiamo visto insieme come realizzare questo cardigan abbiamo fatto un video specifico dedicato a questo motivo con la lavorazione su un campione con la lavorazione feri a doppia punta però giustamente mi è stata chiesta anche la lavorazione con i feri circolari quindi ora faremo un piccolo video illustrativo appunto in cui realizzeremo insieme a un blocco di questo motivo con la lavorazione ai feri circolari quindi partiamo subito e andiamo a vedere appunto questa piccola differenza che c'è nella realizzazione di questo motivo con i feri circolari primi tre feri vanno lavorate nello stesso identico modo due feri in cui andiamo a mettere la base rasata noi per mettere la base rasata con i feri circolari andiamo lavorare due feri appunto con la lavorazione a diritto anche il terzo ferro si lavora nello stesso modo vediamo un attimo insieme appunto il passaggio noi dobbiamo dividere le maglie in coppie dividerle nella nostra mente di cui la prima maglia della coppia va lavorata normalmente per il diritto una volta che avete elaborato la vostra maglia per il diritto continuate mantenere il filo da dietro come se dovesse lavorare la seconda maglia sempre per il diritto invece al posto di lavorarla noi la semplicemente spostiamo così seconda coppia la prima maglia la lavoriamo a diritto la seconda la spostiamo stessa cosa anche con la terza coppia la prima male si lavora a diritto la seconda si sposta così si procede per tutto il cerchio per tutte le maglie con quale state lavorando appunto per il vostro progetto e così si ricorda sempre di mantenere il filo da dietro eccoci qui partiamo con il ferro numero 4 e qui che vediamo un'unica piccola differenza che consiste tra la lavorazione ai ferri circolari con quella a doppia punta nei ferri circolari noi dobbiamo andare fare anche nel quarto ferro la divisione in coppie in cui la prima maglia di nostra coppia andrà lavorata con i ferri circolari a rovescio questo ci permette dare il rilievo al nostro motivo seconda maglia della coppia va semplicemente spostata mantenendo il filo da dietro invece con i ferri a doppia punta noi lavoravamo tutto a diritto anche questa prima maglia quindi ora andiamo con la seconda coppia e andiamo sempre la prima maglia della coppia a lavorare a rovescio la seconda la andiamo a spostare quindi ripassando con i ferri a doppia punta noi sempre andiamo lavorare le maglie in coppia di cui una si lavora l'altra si sposta ma lì noi abbiamo lavorato a diritto e la seconda l'abbiamo spostato invece qui visto che non abbiamo il rovescio non andiamo lavorare sul rovescio del lavoro noi andiamo creare il rilievo lavorando la prima maglia della coppia a rovescio e la seconda la spostiamo stessa la prima la lavoriamo a rovescio e la seconda la spostiamo mantenendo il filo da altra parte così si procede per tutto il ferro per tutte le maglie quindi la unica differenza è questa che la prima maglia nel quarto ferro va lavorata a rovescio per creare il rilievo e la seconda della coppia va sempre spostata una volta che avete fatto questo quarto ferro e ultimo del motivo andate rifare la stessa cosa cioè andremo per due ferri lavorare a diritto per mettere la base rasata terzo ferro andremo a fare divisione in coppia in cui la prima maglia la lavoriamo a diritto la seconda la spostiamo e nel quarto ferro sempre la divisione in coppia di cui la prima maglia stavolta nonostante che si presentano a diritto va lavorata a rovescio per realizzare il rilievo e la seconda va spostata mantenendo il filo da di dietro come avete visto ci sono veramente pochissime differenze speriamo che il video sia stato chiaro grazie che siete rimasti con noi se ci sono le domande ovviamente poneteli qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissimi altre novità in arrivo al prossimo video tutorial